Se nell'ultimo periodo non avete vissuto sotto un sasso avete sicuramente visto questa persona sul vostro telefono che prova a vendervi delle gallette artigianali incredibili urlando e lanciando tazzine in giro Questo, questo è il suo... Qualcosa che vuoi mangiare ma soprattutto senti qua Non ci fosse un unico problema, io le vorrei mangiare se mi arrivassero TikTok è un mondo meraviglioso, permette a molti brand di diventare virali e di fare migliaia e migliaia di vendite Qui stiamo parlando di un fenomeno veramente, veramente virale Alex Theory è un giovane imprenditore ma non è partito con ciò per cui lo conosciamo Prima di avere successo sui social ha tastato il terreno sempre in ambiente fitness gestendo molteplici palestre tra massa e carrara col nome di Green Theory, una sua grande passione Nonostante all'inizio non avesse l'attitudine che mostra ora su TikTok si fece subito riconoscere come una persona di successo che sa come muoversi nel business fin quando non coltivò la sicurezza che mostra i giorni d'oggi, periodo in cui possiamo dire abbia fatto il botto Totalmente tanto il botto che sono passate quasi due settimane e ancora non mi sono arrivati ai gallette Sul sito adesso trovate 10 giorni lavorativi per la spedizione e questo ti fa capire quanto stanno lavorando sulle spedizioni e sugli ordini da lavorare perché a me sono stati promessi 8 giorni lavorativi anzi, meno di 8 giorni lavorativi per la spedizione Avete fatto impazzire il sito di Alex Theory E io ci sto rimettendo Eh, uffa, voglio mangiare le mie gallette e non posso mangiarle Far arrivare le gallette a casa è stato più difficile del previsto col successo avuto grazie a Ciccio Gamer e numerosi influencer che pur di scroccare un po' di visualizzazioni Esattamente quello che sto facendo anch'io Hanno sparso il nome e il prodotto a livelli così alti che i tempi di spedizione sono quasi raddoppiati Una volta ordinato ho fatto in tempo ad aspettare una settimana e quella dopo passarla interamente a Napoli per creare altri contenuti per farvi capire quanto ci hanno messo Fin quando finalmente arriva la conferma della spedizione Mia madre mi ha chiamato e mi ha detto ma c'è stancorire davanti a casa con un pacco gigante e io ho detto ma non mi pare il caso cioè sei sposata Finalmente arrivano le gallette Ah e ovviamente dimenticavo la cosa più importante ho preso solo quelle salate perché il dolce non mi fa impazzire quindi comunque non ne avrei consumate chissà quante però a 5000 like prendo pure quelle dolci e vediamo come sono Cacioppe e caffè La prima cosa che possiamo notare è che il pacco è a parte grande vabbè ma molto leggero in realtà Prendiamo il taglierino che usavo nel magazzino di Amazon per aprire i pacchi Molto funzionale e si presenta subito molto elegante molto elegante come vedete tutti i pacchi predisposti così a parte questo che è al contrario quindi andiamoli a vedere Gallette di Alex Theory Saranno buone oppure saranno una truffa Andiamo subito a provarne alcune Iniziamo a vedere le prime differenze ad occhio nudo Dunque io ho preso il box da 12 pacchi da 30 euro Allora la prima cosa che possiamo notare è che all'aspetto sono letteralmente le stesse che trovate al supermercato quindi almeno all'aspetto non sono molto invitanti che hanno solo questa polverina sparsa sopra che ovviamente tocca un po' come il pandoro Sgrullare e sperare che qualche cosa si incastri tra le fessure del riso Come si apre figlio mio? Qua la busta Ah molto facile da aprire Ottima nota perché Ho appena detto che sono facili da aprire ma mi stai prendendo in giro E' un odore misto plastica e polvere paprika piccante anche se è all'arrabbiata La prima cosa che possiamo notare è che si sembrano gallette normali Non hanno assolutamente nulla di diverso dalle gallette a cui siamo abituati Quindi si sono solo apparenze quelle che fa vedere perché finché sono dentro la loro scatoletta orizzontale tutte quante messe a faccia in su con la polvere sopra siamo tutti bravi a far vedere che sono pieni di roba sopra purtroppo qua tocca a faccia la scarpetta Alex inizia a scardare la macchinetta perché qua si sente una galletta normale con un po' di polverina industriale spolverata sopra è una galletta normale che però ha camuffato un po' il sapore con la polvere è buona la polvere ma la galletta non è più buona o più saporita a chi non è mai capitato di mangiare una galletta così no? con la scusa della dieta e io mi mangio le gallette perché sto a dieta queste sono alla paprika un po' più dolcino eh di quelle all'arrabbiata c'è da dire che Manylux Group S.R.L. Galileo Galilei 1 a Carrara mi sa che l'anno prossimo andrò a curiosare nei bilanci aziendali e vedremo quanti sordi hai fatto con ste gallette come il pandoro vai ha senso vedi che ce n'è già un po' di più ah raga c'è poco da fare eh stai riuscendo a far sapere le gallette di paprika con semplicemente una polverina sopra nulla di più nulla di meno però le gallette non è che devono sapere chissà che cosa sanno dei polistirolo anche queste quindi non ci diciamo cappellate dai giusto la polverina non ci sia andato tirchio ecco però preferirei averle sulle gallette questa polvere si differenzia poco dall'arrabbiata è solo un po' più dolce andiamo a provare il gusto pizza oh eh sì queste sanno di quei snack salati al gusto pizza che trovate indovinate dove al supermercato quegli snackini che ci sono appunto i biscotti così salati no si sente più l'odore che il sapore giustamente essendo tutto raggruppato qua chiuso no di odore di plastica misto pizza quante calorie ci hanno? queste ci hanno pure meno calorie ma è possibile? perché? maluccio eh ho pagato più del doppio ho pagato quasi il quadruplo delle gallette normali e ci hanno solo una polverina aromatizzata sopra salsa barbecue ah sì dai dai su oddio eh ti dà quella schicchera del barbecue all'inizio però poi si perde subito non è non è il massimo vedete prometteva bene eh prometteva veramente bene cacio e pepe forse questi sono quelli migliori eh eh questo c'ha un bell'odore cacio e pepe e questo ci può stare questo ci può stare è sempre molto molto leggero ragazzi eh dalle reaction che ho visto in giro sui social mi aspettavo un bel po' di più perché bisogna riconoscere che è molto fedele il sapore quindi complimenti per aver fatto comunque degli aromi fatto o barra comprato ho fatto produrre degli aromi molto fedeli sanno le polistirole anche queste hanno la consistenza del polistirole sono un po' più dure me la collo eh si è semplicemente preso una fetta lì dove mancava qualcosa riuscire a far ficcare la gente le gallette facendole sembrare buone studiamo un po' il marketing di Alex Theory la campagna pubblicitaria che ho organizzato è la cosa più semplice che possa esistere di questi tempi sui social costanza, perseveranza, controversia e feedback istantanei una campagna simile la sperimentai io su Twitch un po' di tempo fa clip ogni giorno un percorso interattivo un pizzico di controversia e una ciliegina di algoritmo in poche parole sono diventato virale per non saper guidare su un simulatore e sono passato da 30 a 500 spettatori in una settimana divertente tiktok morale della favola le gallette di Alex Theory sono veramente buone? ni sono gallette normali ricoperte sono più buone di quelle industriali? proviamolo ebbene sì perché sono andato anche al supermercato a prendere le gallette precisamente di mais di farro per confrontarle gallette industriali prendiamo le gallette di mais queste erano le mie preferite perché il mais si sente abbastanza stanno di buono insomma molto più sottili prendiamo un gusto che ci si avvicina gusto pizza galletta industriale galletta di Alex Theory galletta industriale tra l'altro fun fact su questa cosa ho chiesto a voi su Instagram quindi ricordate di seguirmi su Instagram cosa ne pensaste di questo frame? qual è la galletta di Alex Theory? e voi sapete già che si tratta di quella a destra ma non molti di voi ci sono arrivati perché ben il 48% credeva che quella del supermercato era quella di Alex Theory in realtà poi vabbè il 52% è azzeccato quindi bravi avete un ottimo occhio o forse perché nella storia dopo ho messo letteralmente il reel con lo spoiler quindi magari qualcuno è tornato indietro a votare maledetti furbi comunque 1900% di voi hanno azzeccato mentre gli altri 1105% credevano che quella del supermercato fosse quella di Alex Theory quindi lo vedi che non sono solo io che credo che quella del supermercato sia più carina almeno all'aspetto per quanto riguarda il gusto invece lo vediamo adesso questa è una galletta al mais che sa di galletta al mais questa Alex Theory per quanto sei stato bravo a camuffarlo questa qui è una galletta normale un po' meno croccante anzi che sa più di polistirolo che di questa perché questa senti la galletta industriale da 90 centesimi croccante sottile parena chips a discapito di più calorie qua avete un po' più carboidrati un po' più fibre un po' più proteine quindi diciamo che sono un po' più nutritive queste ecco facciamo quel gusto un po' quindi Alex Theory gallette industriali da 90 centesimi sono più buone di queste sono più buone più croccanti quando le spezzi galletta industriale galletta di Alex Theory se non bastasse ho preso altre gallette di farro queste hanno molte più fibre proteine eccetera perché ovviamente sono dei farro e hanno meno carboidrati e pare de magna farro soffiato a forma di galletta puntuale sa de farro la galletta sa de mais la galletta questa di cosa sa di galletta normale di polistirolo classica con un po' di polvere a un gusto aromatizzato che cosa sta succedendo qui vengono semplicemente buttate in mezzo ad una pioggia una cascata di aromi industriali al gusto di pizza o salsa barbecue eccetera in forma di polvere e basta eccoci qua gallette di Alex Theory gallette industriali per vedere se effettivamente sono le gallette o soltanto l'aroma a fare effettivamente le gallette di Alex Theory e come detto non c'è niente di male ad avere cose industriali alla fine uno fa il suo business il problema è quando dici che queste sono le gallette più buone del mondo spacciandole come gallette più buone al mondo e non gli aromi su delle gallette industriali e specialmente quando molti di voi me l'hanno confermato la qualità delle gallette soprattutto l'aspetto è calato rispetto a come era all'inizio perché erano artigianali davvero all'inizio e poi mi avete detto eh no troppi ordini quindi le avrà presi industriali non lo so galletta ricoperta di Alex Theory galletta industriale non ricoperta ecco qua l'aroma galletta industriale con sopra l'aroma di Alex Theory questa di conseguenza è ciò che stiamo andando a provare galletta di Alex Theory buona normale non ho sentito per niente la galletta ho sentito solo l'aroma puoi mettere l'aroma su qualsiasi cosa e mangiarlo quindi qual è il merito di Alex Theory nell'aver venduto queste gallette semplicemente aver risolto due problemi che le gallette industriali hanno sempre avuto ovvero il sapore e la freschezza ma non ha creato le gallette più buone al mondo ha semplicemente creato le gallette più mangiabili al mondo non so se avete mai sentito del detto c'è chi piange e c'è chi vende fazzoletti la cosa che ha fatto esplodere il business di Alex è semplicemente aver messo queste gallette dentro una busta richiudibile per fare in modo che non perdessero di freschezza e riempirle in un darle di aromi per fare in modo che voi le dobbiate mangiare a forza senza neanche sentire l'odore e il sapore del polistirolo quindi mentre gli altri piangevano Alex si è messo a vendere fazzoletti e vengono messe elegantemente dentro questa busta comoda della cui portai in giro eccetera eccetera e poi una volta che le finite queste ti rimangono e le poi riempì di piselli però gli aromi sono buoni per quello che costano si possono trovare dei compromessi molto migliori ma poi vogliamo parlare del 50% di sconto che trovate sul sito di Alex Theory il trucchetto più vecchio del mondo convincere le persone che il valore del prodotto è più alto al prezzo al quale lo si può comprare in modo da farlo sembrare un bel colpo il prodotto di Alex è arrivato al pubblico come un lusso e come una cosa da provare assolutamente soprattutto grazie alle promesse utopiche di ricevere addirittura un guadagno dal proprio discontento ovviamente quasi impossibile le gallette sono letteralmente affogate in aromi che ovviamente coprono il sapore del polistirolo ne stai pagando quattro volte tanto inevitabilmente devono avere qualcosa di migliore ma al rapporto qualità prezzo e soprattutto quantità prezzo il supermercato vince a mani basse la cosa molto interessante è che lui è pienamente consapevole del proprio prodotto e di come lo sta pubblicizzando tanto che ha iniziato a vendere gli aromi delle sue gallette a parte dimostrando ancora una volta che le gallette sono solo un'esca per venderti il suo ecosistema adesso farò assaggiare queste gallette questa è una galletta del supermercato è una galletta buona? sì basta basta mi fai provare non vedo ti do questa che avevo già mezzo mangiato dimmi un po' è la madonna che meraviglia eh vabbè addirittura è questo che mi piace pare veramente che io ho allungato le mazzette oh Alex ma che hai pagato mi madre mai non ho mangiato così buona plot twist questo pacco è per me ce ne stanno 12 dei pacchi te mangeresti questa mo che l'hai provata non mangerei tutte ma quella è più buona le mangerei tutte però quella è più buona mia madre molto approvata molto colpita dalle gallette girerò tutti i supermercati per comprare tutte le gallette che riesco per vedere se riesco a trovare delle gallette che riescono ad essere più buone di queste difficilmente le troverò perché questo aroma è molto forte nella cosa sporca un po' perché fa tutta la polvo quindi Alex non mi rimborsare il caffè per il disturbo rimborsami per il disturbo per lavare i panni le cose eccetera in conclusione cosa abbiamo imparato da questo fenomeno virale che stiamo pagando un'idea geniale e soprattutto che non avevamo veramente bisogno di queste gallette o di gallette migliori ma soltanto che uno come lui ce le vendesse è la 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 Grazie a tutti.